La comunicazione oggi è criterio ermeneutico dell'esistenza, non si può vivere senza comunicare. Proviamo a pensare come comunicazione ed economia, per esempio, si intersecano sempre più. Pensiamo a come la tecnologia è stata naturalizzata dentro di noi, su come noi investiamo in beni e servizi cedendo parte della nostra privacy. Quindi credo che i principi della dottrina sociale della Chiesa, che sono quelli fondamentali, la dignità della persona, la ricerca del bene comune, siano assolutamente centrali per chi si occupa di comunicazione. Quindi per tutti i giornalisti bisogna andare a conoscere prima la comunicazione, la dottrina? Assolutamente, io penso che per chi si occupa di comunicazione anzitutto ci vuole grande professionalità. Se c'è grande professionalità c'è sensibilità per quelli che sono i principi della dottrina sociale della Chiesa.